ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su tear down un gioco che è disponibile sul steam già da parecchio tempo ma è uscito ufficialmente il 21 di aprile 2022 il suo prezzo è 20 euro 19 99 per essere precisi che cos'è questo titolo è un po particolare magari non lo si può capire guardando semplicemente la pagina steam lo scopo di questo video è farvi capire in che cosa consiste beh questo gioco ha un'idea di fondo geniale che è quella dell'interattività con l'ambiente quindi la possibilità di cliccando vedete col tasto destro di apparire chiudere le porte ma soprattutto di demolire demolire all'inizio partiremo con un martello e poco altro una torcia un estintore per poi arrivare a cose un pochino più importanti in che senso nel senso che alcuni materiali come il metallo pesante come vedete adesso qui non è distruttibile quindi questo ci complicheranno un poco le cose nelle prime missioni di gioco in che cosa consistono le varie missioni in sintesi c'è questo nostro contatto che ci fa fare una una missione in un vecchio edificio perché devono costruire una strada e ci manda qui a demolire il la casa di questo cliente qui di questo nemico anzi quando l'avremo demolita completamente potremo proseguire ma ci arriveranno delle mail di una poliziotta che ci dirà guarda ho visto quello che hai fatto però guarda non voglio punirti ti hanno visto dalle telecamere insomma ma non voglio punirti perché ho bisogno anche di un lavoro e ci inizierà a fare dei dei compiti vedete qua potete demolire la casa l'obiettivo quello di farla cadere cadere ci sono le bombole di propano che voi potete lanciare solo lanciandole queste esplodono e la parte più difficoltosa all'inizio della partita il fatto che questo camino quindi questo materiale nello specifico non lo potete demolire io ci ho perso circa 6 7 minuti a demolirla tutta ovviamente la casa se la demolite tutta sui lati cade a patto che sia staccata dal camino perché il camino è in grado di tenerla in piedi ho scoperto dopo che molto probabilmente si poteva anche guidare questa quindi praticamente la cosa interessante è che potete in questo caso l'ho già demolita l'ho già incastrata vedete la interattività con l'ambiente è veramente eccezionale potete alzare abbassare con il con il mouse tasto sinistro tasto destra vedete che in questo caso io sto riprendendo e la cosa che vorrei fare ora è andare a demolire sto maledetto camino vediamo se riusciamo vedete che e ogni missione ci dà un tot di punteggio in base alle all'efficienza con cui noi eseguiamo il nostro compito ma non è finito qui perché il gioco vedete adesso in questo caso sto demolendo il bordo della casa no una volta che l'avrò demolita totalmente la casa cadrà ma non è finita qui perché non è un destruction simulator assolutamente no la la figata viene adesso perché vi farò vedere un'altra missione se io finisco di demolire questa casa vedete adesso con mi manca solo una parte per farla venire giù questa credo poi ci credo ci sia solo vediamo perché non viene giù perché c'è ancora quella parte lì è l'ultima gli do il colpo di grazia io e te viene giù e poi dovremmo finire di di demolirla cosa che possiamo fare tranquillamente anche con questi quindi prendere questo ops non succede nulla l'appoggiamo qui appoggiamo qui anche questo appoggiamo qui anche questo e poi gli lanciamo l'ultimo vedete che poi la andremo a demolire completamente ovviamente a mano e così via potete prendere lo vabbè la bomboletta questa per colorare che non allora vi direi che non serve a nulla ma in realtà anche l'estintore nel caso in cui deste fuoco qualcosa incendieste qualcosa vi direi anche che questa bomboletta non serve a niente ma in realtà non è proprio così perché quando noi faremo la seconda missione adesso vi spoilererò pochissimo però quando faremo la seconda missione della per conto della nostra poliziotta in pratica qua ci manda a craccare un computer e noi craccheremo questo computer in questa scusate non lì ma in questa location alla lì computers quando compieremo questo diciamo questa effrazione e adesso l'ho completata in tre minuti ve la faccio vedere è un gioco che si presta benissimo a delle live quando avremo completato questa missione cioè adesso premendo tab vedete dove dobbiamo andare dobbiamo andare a bypassare tre terminali è sul primo credo sia già qua dentro e praticamente questo è il primo prendere questi computer e quando l'avremo fatto la prima volta il tizio vabbè a parte che compariremo sui sui tg in quanto distruttori del ma poi il tizio si diciamo ingegnerà mettendo un allarme e quindi mettendo l'allarme noi avremo un tempo limitato questa può sembrare un'attività abbastanza frustrante quella di correre ma la cosa interessante è che ci spinge ad ingegnarci ora vi voglio far vedere adesso dove dobbiamo andare qui ora ci sono mille modi per affrontare per affrontare questa cosa posso entrare in questa casa facendo esplodere quella cosa che farò mi ha demolito la porta riusciamo entrare è una porta blindata ovviamente io adesso non ve l'ho fatto vedere ma potrei abbattere tranquillamente la porta di metallo avendo sbloccato una sorta di fiamma ossidrica andando avanti però il pian piano prenderete sempre più equipaggiamento per di distruzione insomma oltre che mezzi in attività più o meno lecide lecite ora stiamo andando verso questo edificio in cima a questo edificio ci sarà l'ultimo computer che dovremo prendere e poi ce ne potremo andare e ora vi sto facendo vedere questo per farvi vedere un po l'evoluzione poi della del gioco allora computer dovrebbe essere sopra lì quindi qua potremmo potremmo fare guidare questa e andare su oppure essere molto bravi e accedere in questo modo rubare e poi levare le tende e andarcene e poi bisogna raggiungere ovviamente il luogo di fine torneremo qui per fare la missione vedete adesso potete rubare anche l'auto ma in realtà alla fine della missione avviene sempre raggiungendo il nostro furgone il nostro furgone non deve essere beccato dai nemici in questo caso ce ne andiamo il gioco gli ho dovuto disattivare degli effetti grafici perché ne aveva fin troppi come bloom effetto di sfocatura di sfondo c'era veramente ultra effettato un po come lego builder due minuti 30 ho migliorato ancora continuo continuo e torno nel mio rifugio dove vedete le news con quello che è successo praticamente dice che è stata colpita vabbè qua è già aggiornata l'ultima missione che ho fatto in realtà la seconda missione sarebbe questa tornare qua rubare per conto di un cliente un dispositivo ma nel momento in cui e qua viene la genialità di questo titolo beh prima di tutto è chiuso quindi e seconda cosa hanno ammesso appunto un allarme quindi sarà molto utile per noi crearci una via di uscita e soprattutto ora adesso che il livello l'ho giocato parecchio so già dove sono più o meno tutte le cose da trovare e dobbiamo crearci una e qua potreste rimanere abbastanza boia mondo potreste rimanere abbastanza affascinati perché io lancio questo apro un pertugio dopodiché magari ne prendo boia no direi che non ne prendo un altro perché sono rimasto abbastanza qua dovrebbe esserci il primo infatti vedete ma non lo prendo mi creo un percorso in grado da di arrivare qui in un minuto c'è anche questo della verità e potrei usarlo per fare una cosa di questo tipo che potrebbe essermi molto utile per fuggire perfetto abbiamo la via di fuga e rimanete sicuramente affascinati poi dal dal risultato finale di questa cosa ora dobbiamo trovare il primo e vado a crearmi la via di fuga che è su lì quindi potrei anche utilizzare vedete le cose si possono trascinare o distruggere ora dovrei andare in cima ma non sono nel palazzo giusto perché devo entrare nel palazzo di fronte e il palazzo di fronte è chiuso adesso ci sto mettendo più tempo di quello che ci avevo messo l'altra volta ma tant'è allora no ma era di là forse sì mannaggia ero salito sui tetti la prima volta però ora in questo caso avrei anche la fermo sidrica che ho preso da da precedenti missioni quindi potrei usare anche quelle ma non non lo farò userò l'entrata che il gioco mi pone qua davanti su un piatto d'argento quindi la demolizione di questa grata per entrare all'interno di questo edificio perfetto ora abbiamo aperto la porta saliamo e iniziamo a stilare gioco ci dà la possibilità di fare un quick save quindi qua prenderemo il primo dispositivo faccio un quick save prenderemo il primo dispositivo scapperemo da questa parte finiremo esattamente sopra qui e questo ci arrivate dopo un po di pratica insomma quindi vi studiate bene percorso andremo qui demoliremo questo in modo da poter saltare qui salteremo qui salteremo qui magari salteremo anche qui arrivando qui salteremo qui e poi salteremo fuori da questa finestra gireremo subito l'angolo arrivando in questa zona salteremo qui e salteremo all'interno di questa finestra che prontamente ho distrutto entriamo c'è anche un mezzo in garage qui che non ho minimamente filato ma potrebbe avere un'utilità prenderemo il secondo col secondo scapperemo da questa parte e cercheremo un salto di fortuna su questa piattaforma qui nel caso in cui non dovessimo riuscirci dovremmo potremmo rischieremo di perdere un po di tempo quindi io proverei a creare un ponte ok per arrivare dall'altra parte nel caso in cui non dovessi riuscire a prendere quel pallo lì direi che il piano è pronto possiamo tentare di battere il gioco in questo in questo finale qua ci sono delle cisterne che potrebbero anche esplodere ma adesso entriamo e facciamo quello che dobbiamo fare come ce lo siamo prefissati e una volta che lo vedrete poi pensate anche voi ma è geniale sto titolo sono solo le prime missioni ok siamo pronti il percorso è tutto completamente studiato iniziamo e parte un minuto da questo momento tutto deve essere perfettamente ottimizzato abbiamo perso una frazione di secondo qui ma non demordiamo prendiamo il secondo scappiamo qui proviamo a fuggire da qui ce l'abbiamo fatta il camion non servirà a questo punto abbiamo già la linea di fuga di là quindi andiamo qua merda ho sbagliato vabbè dai ce la dovremmo fare lo stesso prendiamo l'ultimo dispositivo saltiamo giù ok usciamo da qui qua abbiamo aperto lo spazio sta arrivando l'elicottero e a breve sarà sopra la nostra testa sopra il nostro furgone in questo caso ce ne andiamo prima che arrivi l'elicottero ecco questa vedete che stava arrivando questa è la pianificazione tra l'altro è andata anche meno bene perché mi viene dato proprio tutto il percorso di fuga tutto studiato calcolate che nella partita che io ho fatto senza spiegare senza niente avevo avanzato 14 secondi quindi e avevo anche pianificato peggio mi sono proprio perso in questa un attimo un attimo lì ho perso qualche secondo insomma però potrei volendo ricaricare e riprovare a fare questo percorso ora se io potrei anche ricominciare però voglio tornare al menu e farvi vedere ci sono tutte le sfide con tutti i livelli da fare ce ne sono un po' un tot insomma poi ne verranno aggiunti altri c'è una sandbox mod in cui possiamo andare e fare quello che vogliamo ma di base dovremo risolvere tutti i vari puzzle chiamiamoli così che il gioco ci sottopone sia a tempo sia appunto entrare rubare demolire insomma recuperare oggetti gestire mezzi possiamo guidare veramente qualsiasi cosa e vedete che questa è una porta chiusa ma in teoria prendendo la blowtorch riusciamo a bruciarla ed è però questa un oggetto che ci viene data solo dopo quella missione che abbiamo fatto vedete che qua già la storia è cambiata poi se io mi mettessi a demolire tutto l'edificio verrebbe giù e quindi questa è una sandbox per farci studiare bene la mappa e la grafica ovviamente l'avete visto anche da voi è boxer guardate quanto 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 è fatta bene io adesso riprendo questo vedete posso fondere se io colpissi adesso il transpalette credo di non poterlo guidare però credo che un addirittura c'è la baracca cioè questo ci dà un'infinità di possibilità ovviamente eccezionale se io dessi una botta qui no voglio fare una botta con questa cioè giusto per la cronaca guardate come è cambiata la storia siamo dentro e avremmo avuto una via di fuga ancora più semplice avessi deciso che so di beh dio qua quella del camion è una buona soluzione ho perso un po' di tempo io cosa c'è qua dentro? non lo so andiamo a vedere ah qua c'è cioè a livello di suoni a livello di interazioni è veramente molto interessante e credo sia uno di quei titoli che vale esattamente quello che costa e poi ovviamente possiamo tornare al nostro rifugio della campagna e praticamente abbiamo modo di vedere altre missioni Ned Coffee e ci viene data un'altra missione ancora grazie per avermi aiutato con quell'edificio la polizia sta indagando ma sembra che la pista si sia affreddata vabbè inizia una costruzione di quella strada che diceva all'inizio credo ho un altro lavoro per te ho acquistato questo yacht recentemente ma è troppo grande per la marina dicono che non c'è spazio per un nuovo ponte puoi usare le tue skill di demolizione per rimuovere e condividere le cabine credo di non aver capito esattamente che cosa intendesse ma credo che dobbiamo agire all'interno di questo yacht abbastanza semplice come missione vedete che West Point Marina vediamo che missione ci dà ma non voglio spoilerarvi ulteriormente perché sarebbe assolutamente un delitto non so direvi però la durata di questo gioco però immagino che da divertirsi ce ne sia lo yacht è questo no, non è questo c'è una cassaforte perché ci sono anche dei collezionabili insomma che potete ah no, ok ok, ho capito cosa intendono di demolire quello che c'è in un pontile in modo da far attaccare lo yacht del tizio perché dicono che non ci sia spazio come raggiungiamo quella zona? proviamo in auto si passa poi in terza persona scusate presentazione posteriore e dobbiamo demolire l'ultimo è una figata perché comunque vi potete mettere a esplorare tutto trovare oggetti trovare collezionabili ci sono anche soldi non so quanto continuo i soldi qui comunque bisogna demolire questo credo sì, praticamente il porto è tutto pieno bisogna demolire sta casa abbiamo preso un oggetto di valore dovrei trovare in giro adesso un po' di... magari un esplosivo o qualcosa per demolirlo immediatamente però qua non c'è niente dovrei... dovrei esplorare un pochino qua intorno e vedere se c'è qualcosa di interessante sì, beh, io potevo anche... ok i soldi non so direvi a cosa serviranno bisogna esplorare un pochino di più il gioco di quanto ho fatto ma ovviamente me lo tengo per una eventuale live prossimamente perché potrebbe essere davvero interessante sì, un po' esagerato di struggere la... però... no, cavoli non c'è niente qua da demolire devo proprio iniziare dall'alto e demolire tutto che non c'è niente dovrei iniziare a demolire tutte le pareti e farlo cadere su se stesso comunque, vabbè, questo era un massaggio diciamo di quello che Teardown è ora, attendo il vostro parere su questo titolo se lo avevate già visto lo avete già acquistato insomma, se lo scoprite ora mi piacerebbe saperlo qua non succede niente è un generatore questo ma non esplode fatemi sapere ragazzi e alla prossima ciao ciao